Ciao a tutti i neonali, il leone del pallò vi saluta. Ciao ragazzi, volevo ricordarvi solo 5 regole fondamentali in questo periodo. Non toccarvi gli occhi, la bocca e il naso. Cerchiamo di utilizzare il nostro tempo per elaborare idee da utilizzare a settembre. Non copri bocca e naso se stannotisci o tossisci. Ci vediamo in piazza a settembre più forte di prima. Ciao! Andrà tutto bene?